Nell'incontro tenutosi ieri sera ad Arquois con Sergio Berlato non c'è stato nessun confronto con i sindaci. O meglio, con un sindaco, un vicesindaco e un assessore di tre comuni del parco c'è stato, ma poca cosa. Manca la conoscenza in materia, ribadisce Berlato. I giornali scrivono falsità e addirittura in questo periodo è sparito il problema dei cinghiali nelle testate editoriali. La serata era volta a discutere e confrontarsi soprattutto con i sindaci che però hanno disertato. Il parco Colli andava riformato, noi l'abbiamo fatto e ora passiamo per i cattivi, continua l'onorevole. È inutile mettere la testa sotto la terra, i problemi ci sono e vanno risolti. In sala presenti anche Maurizio Conte, Oscar Stella, Di Federcaccia, Massimiliano Barizon e Cristina Caretta, oltre ad un'ampia platea. Svischenberg Channel News, Arqua Petrarca. Grazie.